Che bellissimo essere fieri di se stessi ed essere forti e coraggiosi e sorridere alla vita. Io sono Vincenzo Tedesco, ho 25 anni e mi definisco un unicorno perché per me gli unicorni sono delle persone che sanno di essere speciali e non hanno paura di mostrarlo. Ci sono tante prime persone con cui ho fatto la coming out la prima volta, ho deciso proprio di dire basta oggi, lo diciamo perché sono sicuro e sono fiero di me stesso. Dire ad alta voce sono gay, le prime volte mi faceva battere il cuore come chissà cosa stessi dicendo quando in realtà non era niente di che. Le persone decidono prima di te ciò che tu, quello che tu devi essere, quindi mi hanno sempre identificato come gay, come femminato, come quant'altro. Mi ero scocciato di vivere secondo gli altri, volevo vivere secondo le mie regole. Avevo un po' la paura che potesse cambiare qualcosa, poi avevo paura che gli amici che mi ero fatto finalmente potessero allontanarsi. Tutte quelle paure che hai quando fai coming out, che la tua famiglia non lo accetta e cose così. Però per fortuna mi è andata bene. Spero che col tempo sia naturale dire sono etero, sono gay, cioè non come differenziazione o far sapere che tu hai un orientamento sessuale diverso, ma semplicemente come conoscente e io sono gay. Credo che il passo che c'è stato, che ha fatto sì che la mia vita diventasse migliore, è stato accettarmi, cioè essere fiero di me stesso e senza pensare che potesse essere una cosa sbagliata o quant'altro. Nel momento in cui sono stata me stesso, gli altri sono stati più vicino a me, più felici di stare con me. Siamo tanti e dobbiamo brillare di mille colori e non essere bianco e nero. Non possiamo passare il tempo a piangere, essere tristi, perché quel tempo non lo riavremo mai indietro. Io sono Vincenzo e vivo Out Loud Proud per MTB Pride.